La CONSAC, società del gruppo Rieco che opera sul territorio teatino, servendo una popolazione di circa 32.000 abitanti in 15 comuni, ha investito oltre un milione di euro nel nuovo parco Veicoli. Sono 20 nuovi mezzi specializzati per il servizio di nettezza urbana. Il commissario del consorzio è il sindaco di Vacri, Pier Giuseppe Mammarella. Oggi arriviamo in questo primo passo, cioè la consegna dei nuovi mezzi da adibire alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani. Ed è uno dei momenti più importanti di questo appalto. Questo ovviamente ci permette di cogliere due fatti consistenti di questo appalto. Uno è per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente. Sono mezzi nuovi o seminuovi che rispettano l'inquinamento ambientale. E due, sistemiamo un po' anche la qualità degli operatori che possono così meglio espletare questo servizio fondamentale anche per il sistema dei rifiuti, e il sistema ambientale dei nostri piccoli centri, così ribadendo ancora una volta che l'aspetto più qualificante della valorizzazione dei piccoli centri urbani, anche dell'entroterra, è quello di mostrare un ambiente pulito, un ambiente sano e un ambiente di qualità. Alcuni dei mezzi sono ibridi e sono attrezzati per transitare sia lungo le viuzze dei centri storici che per le strade più ampie, con telai fino a 25 metri cubi di raccolta. L'obiettivo è avere un impatto ambientale molto ridotto, afferma il presidente della RIECO, nonché amministratore della CONSAC, Alberto Berardocco. RIECO ha fatto un grosso sforzo e sta facendo un grosso sforzo per supportare questa iniziativa in cui ha dichiarato sin dall'inizio che credeva e questo è il primo passo per portare avanti questo programma di riorganizzazione complessiva del servizio, quindi anche attraverso il nuovo parco mezzi che è il primo passaggio necessario per poter attuare tale progetto. Quindi siamo contenti e pensiamo di aver fatto una cosa gradita anche a tutte le amministrazioni e nonché al personale che avrà la possibilità di mostrare al meglio le proprie capacità con l'utilizzo di attrezzature più adeguate sia ai tracciati, ai percorsi che all'utilizzo giornaliero. Mi piace anche evidenziare che punta di diamante di questo parco mezzi, oltre a essere in mezzo alle mie spalle, che è un iconic della Mercedes, abbiamo anche investito in mezzi all'avanguardia, ibridi, che quindi consentiranno anche un impatto ambientale molto ridotto. Grazie. Grazie.